Ora si fa sul serio, Sassuolo e Samp si giocano la prima della pool salvezza, da adesso è vietato sbagliare, amici di Team Vision ben ritrovati e benvenuti allo stadio Enzo Ricci da Marco Pagano, in quella che è una gara fondamentale per iniziare col piede giusto. Ancora la Samp perde un altro possesso, il Sassuolo non riparte, qua non c'è fallo, sfonda il Sassuolo con una palla buona, Sabatino scarica a destra, Fifi dentro l'area, Fifi col destro, Fifi! Sì, bastano sei minuti, il Sassuolo è già avanti con il timbro di Raffilo, Gian e Fifi, ha sfondato per linee centrali poi con Fifi, segna il primo gol di questa pool salvezza. La Samp però non riparte, allora altra occasione per le nero-verdi, palla buona per Sabatino dentro l'area, Sabatino col destro! A centimetri dal gol del 2-0, Daniela Sabatino si dispera, qua brava ad inserirsi, in grande anticipo poi calcia col destro. Adesso la metà campo della Samp sta sicuramente alzando i giri del motore qua, altro rischio, Tarenzi col destro! Palla a lato, colossale occasione per la Samp al minuto 22. Senza però inquadrare lo specchio, adesso sì, la Samp si è avvicinata al gol dell'1-1, qua però deve difendersi. Orsi, calcia dentro l'area, Filgens da quinto a quinto, Filgens prende la traversa e poi Daniela Sabatino, nel momento migliore della Samp, va 2-0 per il Sassuolo. Grande azione delle nero-verdi che da destra con Orsi sono arrivate a sinistra, con Davina Filgens la traversa e poi Daniela Sabatino, sa essere micidiale come poche dentro l'area di rigore. Il cross di Orsi, la traversa colpita da Davina Filgens, palla che resta di Vagante, la prima da arrivare e ovviamente Daniela Sabatino, quarto gol in questo campionato con la maglia del Sassuolo. Sassuolo, Tarenzi mette giù, Bercionce non calcia, Gagò ci pensa troppo, la Samp qua però ha perso un'occasione di andare al tiro. Oliviero, calcia col destro, questa volta vicinissima. La Sampa, gol del 2-1, sempre con Oliviero, che tocca la parte alta della traversa col proprio destro. Filangeri, netto anticipo, palla per Brignoli e poi Bellucci insieme a Filangeri riescono ad uscire, Clelland sfonda per lina centrale, ancora Clelland, viaggia verso l'area, Clelland sul Mancino, calcia a Clelland! E' un gol meraviglioso, Lana, Clelland, 3-0 Sassuolo. Si è spostata la palla sul Mancino, ha guardato la porta di Tampieri. Clelland, quarto gol in campionato, salta di netto Giordano e col Mancino, deposita la palla in porta, perfetta la traiettoria a scavalcare in questo caso Tampieri. Il cross di Ascemi dentro l'area, è interessante il colpo di testa, è la super parata di Tampieri, si resta 3-0 con Oliviero che tenta di allontanare la minaccia qua su Novak che riconquista. Novak dentro l'area, Tomaselli lascia per Fifi che calcia col destro, centrale. che apre, tutto a destra, Battestini. Si appoggia a Lopez che calcia, centrale per Crisce, parte larga, Ascemi rientra, crossa, per Tomaselli che controlla dentro l'area, Tomaselli col Mancino Tomaselli! ha cercato il super gol! Può riprendere Tampieri, ma non c'è più tempo, termina 3-0 per il Sassolo che vince, in maniera convincente, undicesima sconfitta per la Samp. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.